Ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV, amici della nostra emittente. Oggi è venerdì 3 febbraio 2023. Cominciamo la lettura dei giornali, Corriere Adriatico e Resto del Carlino, come sempre per quanto riguarda la cronaca locale, a partire però dall'almanacco del giorno. E vediamo che oggi si festeggia un santo amico della stagione in cui stiamo vivendo, ovvero San Biagio. San Biagio è importante per due aspetti. Oggi come allora San Biagio era armeno e fu perseguitato. Oggi come allora, perché quella è una popolazione che viene ancora oggi martirizzata. Biagio visse nel III secolo a Sebaste, visse sotto le persecuzioni di Diocleziano. Fu nominato vescovo e famoso è il miracolo che compì salvando un bambino che stava per essere soffocato da una spina di pesce che gli si era conficcata in gola. Per questo San Biagio è venerato come protettore della gola. Quindi la stagione è quella propizia per invocare appunto San Biagio. Le previsioni del tempo, le previsioni del tempo indicano che sulle Marche permane il bel tempo. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata su tutta la regione. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sud-ovest. Al pomeriggio con una tensione modesta invece proverranno da nord il mare poco mosso. Le temperature si aggirano dai 3 gradi per la minima e dagli 11 gradi per quanto riguarda la massima, ovvero le ore più solleggiate. Ed ora apriamo il giornale, il resto del Carlino sulla pagina di Fano e vediamo l'articolo di apertura. È una recensione di uno spettacolo di cui sono andate in scena le prove generali e domani ci sarà la prima. La traviata trance, strappa applausi e fa il pienone. Sold out di under 30, i ragazzi hanno assistito a quella che è la prova generale ma in realtà è una rappresentazione vera e propria, al teatro della fortuna per la rivisitazione shock dell'opera di Verdi. Ebbene le opere ormai sono oggetto di tante rivisitazioni, di tante manipolazioni di tipo registico. Rimane sempre la bella musica di Verdi, rimane il fraseggio del libretto, delle opere stesse, ma poi il contesto, la cornice, i costumi vengono tutti rivoluzionati. E in questo caso si è fatta una rivoluzione profonda, preceduta dalla fama di non essere adatta ad un pubblico inferiore ai 30 anni, a Fermo e ad Ascoli. L'opera è stata censurata, mentre a Fano l'attualizzazione operata non ha scandalizzato il pubblico, tanto più che chiunque sul proprio cellulare ha costantemente a portata di mano tutto quello che di scandalo si è visto in scena. La scelta del regista, è un ragazzo di 29 anni, di raccontare la protagonista anche come una trance, ebbene si è concretizzata in alcuni momenti cruciali della rappresentazione, con la presenza di un mimo in mutande, alter lego di Violetta, che ha un po' rappresentato il suo passato, il suo passato tormentato da un corpo maschile che non sente suo. Beh, insomma, c'è veramente un'indagine psicologica su un così inventato, passato, trascorso di Violetta, che oltre a fare la prostituta, perché, insomma, questo è il titolo della signora delle Camelie, era anche un trance. Beh, insomma, dopo, spero che, insomma, io non l'ho vista l'opera, comunque la recensione che ne fa Tiziana Petrelli è una recensione positiva, quindi vi invito ad andarla a vedere, se siete curiosa, ma soprattutto se siete amanti della musica di Verdi. Ed ora passiamo alla notizia di cronaca. Sequestro romano chiesta l'archiviazione per Lilian Sora, che è la responsabile dell'associazione che faceva base nel Fanese. Per Lilian Sora, ieri mattina, deve essere finito veramente un incubo, durato 49 mesi. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine al suo carico relativa al sequestro della cooperante italiana Silvia Romano, tenuta sotto sequestro per 18 mesi in Kenya. Vediamo qui la cooperante che è tornata in Italia, convertitasi all'Islam durante il suo sequestro. Dunque un epilogo almeno positivo per quanto riguarda la parte italiana di questa vicenda. Poi c'è tutta quella che si è compiuta in Africa e che quindi deve essere ancora sviscerata in tutti i suoi particolari. E parliamo di Carnevale. Parliamo di Carnevale. Ormai mancano pochissimi giorni alla prima sfilata dei carri allegorici in programma domenica prossima, mentre domani ci sarà il primo evento del programma molto nutrito del Carnevale con l'inaugurazione della mostra sulla musica arabita. Perché la mostra della musica arabita? Perché compie cent'anni. Ebbene un complesso, un gruppo di scalmanati che facevano chiasso soltanto, dovevano durare una sbalzata di fagioli, come si dice a Fano, in realtà sono durati cent'anni. Un gruppo consolidato, espressione del folclore, della cultura popolare, della vivacità, del brio del Carnevale fanese, che sono stati ambasciatori in tutta Italia e anche in Europa. Il Carnevale aggiunge, grato a questo complesso, un altro carro. Ebbene vedremo sfilare domenica prossima un carro nuovo per la musica arabita. È un carro speciale, un carro tecnico, diciamo così, la cui illuminazione scaturisce dall'interno. Ci sono ampi spazi sia per i 50 componenti del gruppo che per un grande getto. Infatti, il carro sarà la fonte del getto più produttivo, più prolifico nei confronti della folla. Ai magnifici quattro giganti, che sono i carri di prima categoria che sfileranno nel corso mascherato, ne segue un altro in onore della mitica banda che quest'anno celebra un secolo di vita. Sarà un palco a più piani, intitola appunto il resto del Carlino. Quindi due eventi importanti, la sfilata di domenica e la mostra di domani. Inaugurazione alle ore 17, Palazzo Bracci Pagani, in un contesto espositivo che sarà allestito fino al martedì grasso, ovvero l'ultimo giorno di carnevale. E ieri il commissariato di Fano ha fatto un nuovo controllo al Vittorio Colonna. Gli agenti hanno identificato sei stranieri e addirittura c'era anche della droga all'interno. Condizioni di sicurezza e igieniche estremamente precarie, così hanno ancora una volta individuato gli agenti tra rifiuti, polvere, residui di combustione e vetri rotti. Uno di questi occupanti abusivi è stato trovato in possesso di alcuni grammi di stupefacenti del tipo ASCIS e pertanto è stato segnalato amministrativamente quale assuntore abituale. Al termine degli accertamenti, gli abusivi sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di invasione dell'edificio in questione. Sì, sono abusivi, ma sono anche senza tetto e bene o male, se avessero avuto un ricovero, certo non avrebbero occupato il Vittorio Colonna. Giriamo la pagina e vediamo quello che sta accadendo alla protezione civile di Colli al Metauro. La protezione civile, ci dice il resto del calino questa mattina, che è piombata nel caos, dimissioni e querela. Colli al Metauro lasciano quattro membri su cinque del Consiglio direttivo e intanto parte una denuncia dall'unica che non ha abbandonato. Ebbene, c'è tutto un problema problema di relazioni interne alla protezione civile di Colli al Metauro. Quella che era destinata alla responsabile del vestiario è stata dimensionata dagli altri. Ebbene, la ragione, adesso qui è controversa, lei stessa dice che è stata dimensionata perché aveva espresso su Facebook delle critiche nei confronti dell'amministrazione comunale e del sindaco, cosa che secondo gli altri quattro che fanno parte del gruppo non è in linea con un comportamento che dovrebbe tenere un volontario della protezione civile. Come se un volontario della protezione civile non potesse esprimere liberamente la propria opinione nei confronti dell'operato dell'amministrazione comunale. Ebbene, allora i quattro si sono dimessi dalla protezione, quasi un atto di protesta, ovviamente, mentre la quinta ha denunciato i quattro e c'è tutto un problema che sviscera Sandro Franceschetti su questo articolo del resto del Carlino. Un mare di coca passava per Marotta, stroncato, maxitraffico di una banda, arresti e denunce a Marotta, sequestrata la polvere bianca, marijuana e contanti, lo stoccaggio avveniva in Umbria. Dunque, cinque arresti, otto denunce, e il sequestro di oltre un chilo e mezzo di cocaina. Quindi, veramente, una operazione importante per i risultati che ha determinato. Un quantitativo analogo di marijuana, addirittura, un chilo e mezzo, e di 25 mila euro in contanti. Questa è la sintesi dell'operazione Mare d'inverno, dal titolo del noto brano di Enrico Ruggeri, dedicato a Marotta, condotto dalle carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino, che ha consentito di sgominare una pericolosa banda di trafficanti e spacciatori di cocaina che aveva fatto della cittadina balneare cesanense il centro operativo delle proprie attività illecite. Quindi, un punto di distribuzione che si allargava poi in tutto il territorio. Ecco perché l'operazione condotta dalle forze dell'ordine è stata quanto mai importante. A Urbino cambiare il medico è una missione impossibile. Con il pensionamento di altri professionisti le code al distretto si sprecano la burocrazia richiesta è da impero bizantino il che vuol dire proprio una lentezza estenuante molte pratiche addirittura operazioni che si involvono su se stesse è veramente una cosa non commentabile voglio dire perché ormai siamo veramente penetrati per quanto riguarda la lentezza della burocrazia in un sistema che si riavvolge su se stesso. Per cambiare medico serve un rimedio pare che in Urbino in questi giorni sia davvero un'impresa ottenere un semplice cambio del dottore di famiglia un atto amministrativo apparentemente non complesso che però spesso non si riesce a finalizzare a causa delle code che si formano allo sportello e poi vediamo ancora l'università di Miami scopre le nostre imprese l'ateneo americano grazie a quello di Urbino e a lingua ideale promuove la conoscenza del made in Italy un filo diretto che si risolve in un sviluppo appunto della nostra economia perché poi la produzione le relazioni voglio dire incrementano le produzioni e i contatti vediamo qualche notizia di Pesaro sul resto del Carlino si parla si parla di assunzioni si dice che non c'è lavoro che ci sono code per quanto riguarda agli sportelli degli uffici del lavoro in realtà si cercano dipendenti e non si trovano un cartello dietro l'altro si cercano dipendenti sindacati dice rispettate i contratti e poi li troverete basta fare un giro in città per vedere decine di annunci per la caccia al personale l'USB lancia la crociata stanchi di essere spremuti ebbene anche questo è un problema bisogna cercare di capire come stanno veramente le cose serve veramente personale se serve perché non si trova qual è la situazione dei contratti e poi si trattano si traggono le dovute considerazioni questo è un po' il problema di questa vicenda e poi l'arresto del Calino ci propone un viaggio nel cantiere del Calcio a Villa Fastigi tutto fermo no aspettiamo i permessi c'è stata una interrogazione del consigliere comunale Malandrino di Fratelli d'Italia non si lavora da mesi Amadori di Marketing Miss andiamo avanti ci vuole del tempo quindi ci vuole un po' di pazienza per aspettare i risultati di questa trasformazione territoriale a Villa Fastigi e battaglia sul nuovo ospedale primo atto e sono già in ritardo Andrea Biancani consigliere regionale del Partito Democratico insiste nel settore della sanità entro il 2022 andava avviato il bando di gara per il concorso di progettazioni invece ancora non c'è questo nuovo mitico ospedale che dovrebbe sorgere a Muraglia ancora completamente in alto mare e tra le diverse vicende che coinvolgono Marche Nord e ora la TS insomma la nuova organizzazione territoriale sanitaria che ha sostituito l'azienda ospedaliera dell'ospedale unico o non unico ormai si è perso addirittura il ricordo Biancani attacca la verità è che il tempo passa e non si vede niente di concreto insomma è tutto ancora in alto mare farina di grillo parliamo di farina di grillo parliamo di insetti parliamo di cose che vengono dall'Oriente farina di grillo va del retro per carità meglio le nostre tipicità la Confcommercio lancia la crociata dopo il via libera al nuovo alimento la vice direttrice Trufelli trasparenza sull'origine la tracciabilità e i prezzi comunque chi vuole assaggiare la farina di grillo è liberissimo di farlo ma ovviamente noi privilegiamo la farina dei nostri campi e gli alimenti dei nostri campi e poi siamo in inverno siamo a carnevale quindi insomma mangiare un pochino di grasso è di tipico di stagione e qui vediamo un articolo che riguarda una persona particolare io ultimo degli ebrei della città salvato da persone dal cuore d'oro è il racconto di Angelo Montebarocci ultimo uno dei superstiti della Shoah ma anche uno dei superstiti della comunità ebraica numerosa che risiedeva a Pesaro il racconto di Angelo Montebarocci ormai a 90 anni scampato dalla Shoah peregrinando in tutta la provincia da Novinara alla fuga di notte a Pergola e Cartoceto dove Flaminio Bartolini si nascose in un molino e qui troviamo veramente la fiducia e l'accoglienza da parte dei residenti non ci fu nessuno che fece la spia anche questo è un giudizio di merito appunto del nostro territorio bene abbiamo visto il resto oicalino ora apriamo anche il Corriere Adriatico per vedere l'apertura sulla pagina di Fano e vediamo che il giornale la dedica alla musica arabita la musica arabita compie cent'anni mostra e carro nuovo al Carnevale folclore ebrio per la banda che fornirà la colonna sonora sfilando nei tre corsi mascherati sarà veramente bello vedere questa novità al Carnevale di Fano e poi vediamo che l'apertura della seconda pagina è dedicata a Silvia Romano la vicenda di Silvia Romano è quello che ormai solleva la posizione di Lilian Sora la titolare di Africa Milele sequestro in Kenya richiesta della procura di Roma per l'impossibilità di avere notizie su tre imputati e poi vediamo la reazione invece della Confcommercio in merito all'iniziativa presa dall'assessore al turismo e tiene Lucarelli di aumentare la tassa di soggiorno in cambio della concessione di una card che i turisti potranno utilizzare per servirsi dei servizi del territorio tassa di soggiorno chiesto il rinvio dell'aumento le associazioni di categoria lamentano la mancanza anche dei servizi di base dunque c'è una reazione contraria alla decisione presa dall'amministrazione comunale di aumentare questa tassa addirittura questa mattina gli albergatori hanno convocato una conferenza stampa per ribadire le loro ragioni ed opporsi alla decisione presa dall'amministrazione comunale vedremo come andrà a finire efficientamento energetico nelle scuole Nuti e Gandiglio fanno concorre per 375 mila euro al bando del Ministero dell'Ambiente e poi vediamo che a Fossombrone Viale Gramsci diventa a senso unico era ora dicono reazioni positive alla sperimentazione di questa rivoluzione del traffico Viale Gramsci che i più preferiscono denominare delle scuole a Fossombrone regolamentato a senso unico direzione Piazza Giovanni XXIII dal primo febbraio quindi dall'altro giorno quanti hanno commentato era ora non hanno fatto altro che sottolineare come il provvedimento fosse già atteso da diverso tempo addirittura da anni e poi vediamo che nella pagina della Val Cesano si dà ampio spazio all'operazione mare d'inverno quella che ha portato i carabinieri a scoprire una vasta presenza di smercio della droga operazioni dei carabinieri eseguiti quattro arresti ad Ancona Perugia Milano e Benevento Marotta base per lo spaccio della cocaina e poi vediamo anche la pagina di Senigallia purtroppo qui vediamo un brutto incidente stradale va a prendere il bus falciata da un'auto gravissima una studentessa di 13 anni sciocche nella località di Barbara la ragazzina era andata da un'amica a fare una ricerca ed ora è in coma farmacologico era andata a studiare con un'amica e stava tornando a casa quando un'auto l'ha centrata in pieno un impatto tremendo la ragazzina di 13 anni ha subito perso conoscenza ora si trova in coma farmacologico al Salesi in gravissime condizioni e in prognosi riservata il drammatico incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle ore 18 in Contrada Fratelli Kennedy una strada che conduce al centro storico di Barbara la studentessa che è di Corinaldo era andata con una compagna di scuola per fare una ricerca scolastica quindi veramente un destino molto amaro per questa giovinetta apriamo il Corriere Adriatico sulla pagina di Pesaro vediamo che si parla di Fano sulla pagina di Pesaro per la recensione che fa Elisabetta Marsigli sulla traviata transgender ipnotica e moderna i ragazzi la promuovono ieri l'anteprima al teatro della fortuna di Fano per gli studenti marchigiani dieci minuti di applausi una versione interessante senza nulla di male così dicono e intanto domani alle ore 20.30 ci sarà la prima di questa opera aperta dunque al pubblico fa parte della stagione lirica del teatro della fortuna quella dei teatri in rete che poi sarà replicata non so se questa la affermeranno a Fermo ad Ascoli e via dicendo anche la stazione di Pesaro si rifarà il look in vista di Pesaro come capitale del nazionale della cultura per il prossimo anno stazione da capitale della cultura corsa per il restyling il via a marzo il primo intervento sarà all'interno dell'edificio e in questa fase non saranno tagliati i parcheggi poi ovviamente anche i parcheggi subiranno delle riduzioni per cercare per fare per permettere di fare i lavori la roadmap prevede che il primo gradino è la riqualificazione e l'ampliamento dell'edificio dove assede la biglietteria poi ci sarà anche il miglioramento sismico il miglioramento dell'accessibilità salita e discesa e binari il rifacimento e la manutenzione di tutti i sottopassi e poi saranno interessato dai lavori anche il piano superiore della stazione oggi inutilizzato sarà a destinazione ricettiva all'esterno è prevista tutta la riorganizzazione della sosta rapida e veloce con disco orario nel piazzale di fronte all'accesso poi ci sarà nuovo spazio per la sosta dei taxi e i parcheggi a pagamento per una sosta prolungata alle spalle della stazione tra il Miralfiore e Porta Caffucina questo è un po' il progetto in linea di massima che coinvolgerà la stazione invece per quanto riguarda Villa Fostigi abbiamo visto come il cantiere fermo ha suscitato delle reazioni cantiere fermo da mesi e ritardi si accumulano struttura sportiva di Villa Fostigi malandrino di Fratelli d'Italia dopo il sopralluogo fa emergere questa situazione chiedendo che appunto i lavori procedono con una certa celerità piano rifiuti tanti dubbi dei sindaci rimandato il voto sul ricorso al TAR ieri si è svolta una riunione convocata dal presidente della provincia Giuseppe Paolini tra i sindaci del territorio per cercare di trovare una convergenza sull'iniziativa di ricorrere al TAR in merito alla bocciatura che la regione ha fatto del piano dei rifiuti ebbene sembra che a leggere questo articolo ancora questa unanimità di intenti non si è trovata e quindi c'è un rinvio della riunione per vedere di trovare un accordo una barriera di obiezioni dubbi e contrarietà alzata dai sindaci ha fermato per ora la carica dell'assemblea territoriale d'ambito contro la regione per la bocciatura del piano provinciale dei rifiuti l'assemblea online convocata ad urgenza per ieri alle ore 12 si è aperta con la lettura da parte del direttore Ranocchi del documento per deliberare il ricorso al TAR contro l'esito negativo ma questo insomma non ha trovato l'unanimità dei consensi troppi furbetti nel lavoro stagionale e le retribuzioni inalterate da 30 anni i PASO che fa parte della Confesercenti e Campoloni della CGL si pongono contro gli stratagemmi per aggirare i contratti occorre una più serietà da parte degli operatori economici in modo da assicurare un adeguamento più puntuale appunto dei rapporti con i dipendenti a livello comprensoriale siamo ormai in conclusione voglio farvi notare qualche notizia di sport oggi sul resto del Carlino vediamo che per quanto riguarda la visse St. Clair visse dice mi sei piaciuta e ora avanti il neoacquisto la fascia è casa mia il pubblico spinge molto la squadra ha una grande volontà il primo impatto è stato molto positivo e qui abbiamo una intervista al giocatore di cui vediamo un'immagine per quanto riguarda invece il Granata la squadra di Fano Fano con il Portodascoli è fondamentale è fondamentale vincere io oserei dire l'allenatore Mosconi sull'anticipo di domani al Mancini la partita è alle ore 14.30 vincere per arrivare prima possibile alla salvezza la società però è stata multata multata per l'ultimo strascico della rissa scoppiata domenica scorsa a Roma al Trastevere Stadium la società Granata è stata multata di 2.000 euro al pari di quella capitolina quindi sono state multate tutte e due le squadre per la rissa il diverbio che è nato appunto in tribuna e questo è il momento è tutto Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alle ore 7 probabilmente avremo un ospite vediamo un po' se questa iniziativa si concretizzerà e per le notizie del giorno come sempre vi invito a seguire e occhio alla notizia il TG di Fano TV questa sera alle ore 20.30 grazie per l'ascolto vi auguro una buona giornata a risentirci grazie a tutti